Ancora una volta Piacenza si dimostra terra fertile per le start-up innovative. Ieri sera all'interno della meravigliosa cornice dell'ex Chiesa del Carmine è nata ufficialmente l'agenzia immobiliare Eticasa, basata su innovativi strumenti di analisi per facilitare la compravendita di case, puntando sulla tecnologia e sulla comodità. Eticasa è tre cose. È un'agenzia immobiliare innovativa, è una start-up, perché sviluppa software e tecnologia a servizio del mondo degli immobili ed è anche una società benefit. Al centro della mission di Eticasa, grande importanza è data la tematica ambientale. Cerchiamo di ridurre il traffico su gomma, cercando di far visionare ai potenziali clienti gli immobili direttamente dalla nostra sede o direttamente dalla propria abitazione, dalla propria casa. In più abbiamo sviluppato delle tecnologie che utilizzano la blockchain, che è uno strumento per salvare i dati e per certificare le transazioni a basso impatto ambientale. Quindi la blockchain che utilizza meno energia elettrica per salvare le sue transazioni. Una start-up innovativa, com'è nata questa idea? L'idea è nata da un ragionamento, cioè dall'aver avuto esperienze nel settore degli immobili e aver trovato difficoltà operative a comprare e vendere casa. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme la comunicazione e il marketing con la tecnologia per servizio degli immobili. Quindi per aiutare le persone a comprare e vendere casa al meglio e nella maniera più facile. Tanto che il nostro slogan è la casa con un sorriso. La start-up che guarda con occhi nuovi al mondo dell'immobiliare nasce a Piacenza, ma guarda già all'orizzonte. Eticasa nasce a Piacenza. Adesso dobbiamo avere i piedi per terra e fare un bel lavoro sul territorio, fare una bella presenza, quindi poter mettere a punto tutti i nostri sistemi che adesso sono stati sviluppati ma hanno bisogno di apprendimento e di mesi di lavoro per poterli ultimare con l'obiettivo poi di portare anche fuori da Piacenza queste tecnologie, questi sistemi per comprare e vendere le case.